Grazie a Christopher Bollen che è veramente un personaggio simpaticissimo, grazie alla casettrice Bollati Boringhieri, con noi c'è Daniela Guglielmino, capo editor di Bollati Boringhieri che ha anche tradotto questo romanzo per cui a supporto di tutta la serata ci potrà dare una mano. Intanto questo libro come vedete ha circa 700 pagine, ora scrivere un romanzo di 700 pagine ci vuole un certo coraggio perché poi devi riuscire a tenere incollato il lettore su queste pagine, prima cosa. Seconda cosa bisognerebbe tentare di dargli una categoria, è un giallo un crime, se noi diciamo giallo gli angloamericani non intendono subito di che cosa si sa, è un crime, sì probabilmente, ma è anche un romanzo, un romanzo piuttosto impegnativo con tantissimi personaggi, con delle vicende che mettono in relazione questi personaggi tutti tra di loro però in quella che come si diceva nel teatro classico è un'unità di tempo e di spazio perché non ci si muove mai da Orient che è un posto che esiste davvero, Christopher ha messo, l'editore di Christopher ha messo la cartina geografica di Long Island, Orient è esattamente di fronte agli Hamptons che come voi sapete è uno di quei posti dove i new yorkesi ricchi vanno in vacanza, posto molto molto bello. Orient è una comunità e come tutte le comunità ovviamente è chiusa e sapete una volta succedeva quando esistevano i treni con gli scompartimenti che tu te ne stavi lì tranquillo nel tuo vagone magari con un vicino entrava un altro e già lo guardavi male perché ti occupava dello spazio, in realtà la cosa è un po' simile, entra un elemento dissonante rispetto alla tranquillità di un posto dove si parla molto dei gossip, dove si parla molto del tempo, nel senso del tempo meteorologico e questo è l'elemento narrativo che fa scattare tutta una serie di vicende. Ma prima di fare una domanda a Christopher Bollen vorrei dire due cose su di lui perché vorrei partire proprio di là, lui è un giovane autore con una lunga esperienza giornalistica, anzi vi dirò di più da direttore anche dei giornali perché lui è stato per alcuni anni direttore di Interview, il giornale fondato da Andy Warhol e poi acquistato da Peter Brandt e in effetti qui c'è anche una delle cose per le quali io mi sono molto divertito e sono molto contento di essere qua seduto con voi stasera è perché lui parla moltissimo di questo art world, il mondo dell'arte, perché Christopher negli Hamptons ci sono tantissimi artisti che vanno così a prendersi il clima più temperato rispetto a New York, ma mi diceva che anche a Orient diversi artisti hanno comprato casa, parlava stasera di Kara Walker, di Elizabeth Payton, artisti americani molto famosi, però da come lui ne parla soprattutto di Beth, una delle protagoniste del libro, di suo marito, questo artista che è in realtà proviene dalla Romania, quindi dall'Europa dell'Est, lui non sembra amare molto gli artisti, li considera forse, nella finzione del libro, li considera forse dei personaggi un po' sopravvalutati, un po' sopra le righe, ma questa cosa ti è venuta perché hai fatto il direttore dell'interview, sì, first of all, thank you so much for being here, and it's such an honor to be here, and thank you for stepping in and asking such a hard first question, I don't want to get too ahead of my interpreter, but I had a lot of feelings about the art world, and I had been working in the art world before I was a fiction writer, I was covering it, I was writing for places like Artforum, and I had to interview, and most of my friends in New York were artists, and so I was coming from an aspect of someone who was a writer making far less money than all of these young artists who in New York of this era that I was in were suddenly making a lot of money, which is surprising, because when you're a child, the first job your parents don't necessarily tell you to go into is to become an artist, but it seemed a very profitable business in New York, I'll let you translate that and then I'll explain the answer is yes, first of all, but I would say that I would like to thank you for your presence this evening for this event, so it's a great honor to be here to be here this evening, so thank you for being here and thank you for being here and thank you for this question that is pretty difficult that I have posed. All right, I would say that I have several sensations, I have also had several sensations in terms of the world of art, especially because I have worked very much in contact with artists and even before becoming an author or a writer, I have worked not only for interviews, magazine interviews, but also for other sectors that were related to art and I have also many friends in New York who are artists and what was particularly surprising, and now it is for me, that the world of art is a world where they can be made very useful, that there is a lot of money around the world of art and so suddenly I discovered that there was a lot of money in the world of art and this, I would say, is surprising because when you have children and when your parents say to their children to do something, they certainly are not the first choice, they don't say to the children to do art, in reality they may have to do it because it is a world that is very profitable in terms of monetary. So I guess what I mean by that is I was intrigued, as many of us are, about the art world and the history of sort of bohemianism and transgression and, you know, what was possible outside of society norms and I feel like the art world I inherited in New York was involved in that question but was also sort of reeling in all of this capital and it was a really interesting frision for me between this sort of dream idea I had of the art world and the sort of capitalistic art world that it had become in the 2000s. And so Orient was in many ways an opportunity for me to sort of discuss that strangeness. And it must have been strange to be an artist at the time too and being 25 and working in your studio and then suddenly making a million dollars. So I felt like that needed to be addressed and I didn't feel like anyone had really written about that yet. The weird aspect of trying to sort of be this revolutionary or radical art maker but also being sort of petted and rewarded for anything that you produced. Well, saying these words intendo in reality che sono sempre stato particolarmente interessato al mondo dell'arte, alla sua storia, al nichilismo, alla trasgressione, tutto quello che l'arte cercava di raccontare, tutto quello che stava al di fuori della società, quindi l'arte che era rappresentata particolarmente a New York. E quindi il mio tentativo è stato quello di rileggere un po' questo mondo capitalistico che c'era alla base di questo tipo di arte che avevo scoperto. quindi un'idea appunto che era una commissione rispetto all'idea di base dell'arte e quello che poi avevo scoperto che l'arte era diventata a metà degli anni 2000. Quindi Orient è stata per me una grande opportunità per poter parlare e dibattere anche di questo paradosso, appunto perché può essere un artista che ha l'età semplice di 25 anni, che lavora nel suo studio, poi di colpo si trova a poter gestire una quantità di denaro molto elevata, molto diversa da quanto ognuno si possa aspettare e nessuno finora aveva letto questo aspetto molto importante, questo aspetto reale dell'arte, quindi quello che si coniuga insieme all'aspetto rivoluzionario, all'aspetto radicale, ma anche naturalmente unito all'aspetto monetario, quindi ogni tipo di monetizzazione dell'opera d'arte prodotta da un artista. Allora io comincerei dall'inizio, comincerei dal titolo, da questo titolo che racchiude secondo me tante tantissime cose, innanzitutto questo me l'ha confidato lui, un omaggio ad Agatha Christie, quindi all'Assassinio Sud Oriente Express, ho voluto ricordarla mettendo comunque questo piccolo accenno e poi tutti i significati legati a Oriente, ovviamente per chi di noi ha studiato letteratura americana sappiamo che il movimento della frontiera è a ovest, e invece qua tutti si muovono a est, e quindi volevo sentire appunto da lui, perché come mai tutti arrivano invece da questa parte qua? E poi… 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 Devo dire a questo punto che molte volte si scrive un libro per un autore, quindi si scrive un libro del cui titolo non si sa ancora niente quando si inizia a scrivere e nemmeno durante la stesura del libro. Per esempio il primo libro che ho scritto, beh, io pensavo a un certo punto che l'avrei intitolato Animals, quindi introduciamo in italiano con Animali. In realtà poi il titolo è stato Lighting People, e in realtà poi quindi mi è venuto poi in mente che forse questo titolo era molto diverso da quello che potevo pensare io o tutti i riferimenti che potevano esserci con gli animali, quindi chissà come lettori avrebbero poi capito questi riferimenti. Comunque… Invece per Orient la situazione è stata molto diversa, perché sapevo sin dall'inizio che questo titolo sarebbe stato appropriato per il mio libro, perché era un titolo molto intrigante, perché si trattava non solo appunto della denominazione geografica del piccolo paese nella parte terminale di Long Island, ma era un titolo che racchiudeva in sé anche tutta una serie di connotazioni diverse. Forse per chi prende in mano il libro per la prima volta potrà pensare che andrà a finire in Estremo Oriente e in realtà poi dopo si troverà a Long Island. Quindi tutta questa serie di connotazioni legate al titolo. Sì, e poi il significato di Orient in inglese è appunto l'orientamento e disorientamento. È molto chiaro, è molto interessante il modo in cui alcuni dei personaggi sono disorientati e che cosa poi succede loro nel loro disorientamento. È un orientamento che ha a che fare con l'organizzarsi nello spazio e nel tempo e anche con i vari orientamenti, anche sessuali o anche di disposizione d'animo verso le altre persone. Volevo appunto chiedere a lui se voleva dire tutto questo nel titolo, se tutto questo era chiuso. Grazie. 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 or find their way forward and they just keep getting thrown and so obviously there was a string of murders that happens in this small town which is going to throw anybody anyway but you know there's a character that has a sort of well there's sexual orientation that's involved with certain characters there's an inability medically for one character to orient himself due to an accident and it's just that there was just so many wonderful ways to show people struggling to find their sort of compass so that was a big big excitement for me and then of course you hit the nail on the head with Agatha Christie it was a sort of secret tribute to Agatha Christie because this is a whodunit and I was such a huge fan of Christie as a kid so sort of a murder on the Orient Express reference as well but I mean the whole idea of the lighthouse on the front is the way that sailors oriented themselves to the coast Orient itself is a directional so there was a lot of it was just all about direction and misdirection which is really what all murder mysteries are basically quindi la risposta è sì assolutamente sì ho provato proprio a trovare tutti questi significati queste connotazioni all'interno del del titolo Orient perché tutti questi personaggi che ci si trovano poi all'interno del libro sono personaggi che cercano un loro centro cercano una loro gravità ma alla fine non la trovano e cadono e questo centro naturalmente beh si basa anche tutto su una serie di omicidi che avvengono in questo piccolo villaggio ma come dicevo al centro della situazione c'è anche l'orientamento orientamento sessuale di alcuni di questi personaggi il disorientamento nello spazio nel tempo di alcuni personaggi alcuni personaggi che cercano con molte difficoltà di trovare la propria bussola quindi trovare la loro stella polare nella vita e tutto questo naturalmente è particolarmente interessante è anche emozionante e poi devo dire che c'è anche il tributo l'omaggio segreto per così dire anche ad Agatha Christie perché sin da quando ero bambino sono stato sempre un fan svegatato di Agatha Christie soprattutto quindi un tributo all'assassino sull'Oriente Express poi forse possiamo richiamare anche il simbolo del faro il faro sulla costa dell'isola che è naturalmente un segno di orientamento di dare una certa direzione o non dare una certa direzione ai marinai o ai personaggi in questo caso del libro allora torniamo ad Orient facciamo finta di farci un giro da quelle parti non so la smetto con la questione dell'arte però non so se vi ricordate che già Jackson Pollock a un certo punto si era preso lo studio a Spring per stare lontano dai deliri alcolici di Manhattan che invece Alex Katz per esempio se ne sta lì con la moglie Ada e tutta la sua tribù di figli a sorseggiare Martini Cocktail guardando il tramonto e questo posto meraviglioso di giorno in realtà diventa e questa cosa veramente la condivido con lui anzi quando l'ho letta sono stato proprio contento realmente un incubo di notte cioè i posti isolati a me mi fanno una paura tremenda lui dice le piccole città sono molto più spaventose di New York c'è questo silenzio inquietante di notte la realtà è solo apparentemente idilliaca e così a un certo punto proprio nei vari capitoli del libro sembra che quando si spengono le luci quando la Main Street cioè l'unica strada che attraversa il paese le persone cominciano ad entrare in casa quello sia veramente un posto terrificante infatti gli omicidi avvengano a Orient e non non lo so non a East Village ecco quindi tu a Orient non ci abiteresti scusa tu a Orient non ci abiteresti mai and write for a weekend by yourself and I thought oh it sounds great like you know I can go and write and work and so I rented a car I drove the two hours out and it was so beautiful in the daytime you see the sea and kids are on a bike going by very like American sort of beautiful peaceful place and I thought this is such a nice place to live and then night fell and I got and I'm in a 35 at that point I was probably a 35 year old adult man who lived in the middle of Manhattan for 20 years and I got so scared I mean I was so scared I'm embarrassed to tell you this but I brought a knife to bed with me a kitchen knife because I was convinced I was going to be murdered I just it was so bizarre and I was so freaked out and then the morning came and it was just you know that what happens the next morning you're like what was wrong with me why was I I was so scared I was just so unused to the quiet and it's so quiet out there and so isolated once you can't see a neighbor and I guess I think in a lot of ways it was just like the artists like you think you're really tough because you live in Manhattan but actually it's kind of an easy place to live for the most part for most of Manhattan it's really safe so I'd like to throw that opposite around you know like you think that the artist is the one who's struggling in bohemianism but they're not you think the one in New York is susceptible to crime but they're not so sort of something that I was playing with in the book sorry well in reality posso dire che adesso sicuramente non andrò mai abitare a Orient perché le persone che abitano a Orient e gli abitanti non mi vogliono perché ho scritto questo libro proprio su di loro sulla loro comunità e quindi sono molto grato che tu abbia portato al pubblico anche queste sensazioni che sono le stesse che condivido io stesso e di cui ho fatto esperienza perché dovete sapere che quando ho terminato il mio primo libro uno alcuni miei amici di cui appunto Kelly Walker per esempio hanno comprato una casa proprio ad Orient e a un certo punto mi hanno detto perché non ci vai tu vai per un weekend nella nostra casa e io ho preso l'occasione e sono andato a Orient ho preso l'automobile sono andato due ore di strada sono arrivato a Orient tranquillamente era così bello di giorno si vedevano i ragazzini che giravano le biciclette proprio un'atmosfera molto pacifica tranquilla molto bella poi invece è arrivata di colpo la notte la notte e immaginate per me insomma allora avevo 35 anni un uomo 35enne quindi adulto che aveva vissuto per circa 20 anni nel cuore di Manhattan di colpo era terrorizzato a vivere e a stare ad Orient addirittura mi sono dovuto portare a letto un coltello da cucina perché avevo paura che qualcuno potesse ammazzarmi se ci fosse qualche omicida tutto questo è molto strano è stato anche molto bizzarro insomma nella situazione e poi è arrivato il mattino il mattino è arrivato e mi sono detto ma cosa c'è di strano non c'era niente di strano che potesse capitare però forse era proprio perché non ero abituato a questa tranquillità a questa pace e forse anche perché è talmente un posto isolato dove non si vede nessuno per strano nemmeno i vicini di sera di notte non c'è nessuno quindi forse un po' come gli artisti che si pensa che abbiano una vita difficile vivendo a Manhattan in realtà chi vive a Manhattan proprio come gli artisti la loro vita è molto facile è molto sicura per così dire la stessa cosa dicasi anche per chi è andato a vivere a Oriente anche solo per qualche giorno tra l'altro adesso non voglio svelare più di tanto anzi quasi per nulla il plot narrativo però diciamo che il punto di partenza almeno forse quello lo possiamo dire ma voi poi siete obbligati a leggere un libro perché veramente è una figata è bellissimo questo libro un ragazzo che ha 19 anni si chiama Mills viene portato appunto a Oriente un ragazzo che ha chiaramente dei problemi insomma di famiglia è fuggito dalla famiglia adottiva spesso è consumatore di sostanze stupefacenti insomma viene portato da questo architetto con la scusa di aiutarlo di dare una mano in questa sua casa appunto ad Oriente ed è la cosa incredibile che in una comunità tutto sommato abbastanza aperta come potrebbe essere quella appunto degli artisti Beth è sposata all'artista senza talento è sposata con un artista e c'ha una mamma quindi immaginiamo una ragazza sui 30 anni che c'ha una mamma che ne ha invece 54 ed è completamente invasa dal botulino anche questo è divertente non le figlie ma le mamme ma la cosa curiosa è che racconta davvero la storia di un'America che ha paura che ha paura e qui secondo me non è tanto la questione della paura del diverso ma è davvero la paura di qualche cosa che può entrare a modificare la tua quiete quotidiana e tra l'altro lui sta parlando perché sarebbe forse anche un pochino troppo facile farlo adesso dell'America di Obama cioè lui chiaramente cita a un certo punto la presidenza Obama quindi non è l'America di Trump dove evidentemente anche i media hanno spinto molto su questo aspetto della politica del neopresidente quanto di un'America che avrebbe voluto essere stata molto aperta e che invece in realtà nelle piccole comunità resta assolutamente chiusa Grazie. Grazie. I think that the real radical of the book or the real outsider is of course this one man it's not the artist it's this one kid who in a way because he's such an outsider and such looks like trouble in that sort of classic way he's he sort of typifies or comes to represent all of the problems that are to come for this town to the people who live there forever so it's like okay now we're being overrun with just the unknown and I think in a lot of cases it's the classic idea of the scapegoat like there's always someone who's sort of shunned or made to suffer the blame of the whole group and that's usually the weakest one or the outsider you know and so I think Mills is represents that and I think it's just fear I think it's just he's just an easy thing to grab onto as the problem and the reason for all the fear when the fear is of course much more loaded and comes from so many more different places and the dissolution of an old economy and the old ideas of family and the old ideas of community you know people don't like to change and people don't like their communities to change and so poor Mills because of these murders start happening really becomes the the main suspect because you know he's there and it's easy to blame him so that was something I really wanted to investigate that idea of that the outsider being really the sort of terrible agent whether or not he is or not the killer I think that the person the most radical for so the outsider so the margin for so to say all the inside of this book is this ragazzo questo ragazzo Mills che è veramente considerato come l'emarginato l'outsider perché viene considerato subito come un ragazzo che ha avuto o ancora dei problemi rappresenta e tipicizza in realtà tutti i problemi della comunità e dei suoi abitanti degli abitanti di Orient proprio perché è lo sconosciuto qualcosa che non è conosciuto finora agli abitanti quindi forse può essere considerato come il capo espiatorio di tutti questi problemi di tutto un gruppo come succede normalmente nelle comunità dove appunto il capo espiatorio è sempre la persona forse più debole forse la persona che è considerato come l'outsider però è solo una questione di paura perché è facile appunto naturalmente dare la colpa all'emarginato dare la paura tutte le proprie paure metterle poi dopo sulle spalle di chi è emarginato che non appartiene a questa comunità in realtà sono paure dovute alla disillusione della propria idea dell'economia della propria idea della famiglia della propria idea di comunità della propria idea di se stessi proprio le persone non accettano molto facilmente i cambiamenti né di se stessi né della propria comunità e il povero Mills a questo punto è la persona che è sospettata di tutti questi omicidi e proprio qua volevo effettuare la mia ricerca la mia ricerca sull'idea di outsider ricerca sull'idea di emarginato io volevo chiederti ancora una cosa invece una piccola riflessione sull'idea di thriller e sull'idea che il thriller appartiene a un genere e quindi necessariamente è un romanzo un po' basso un romanzo un po' commerciale mentre invece mi sembra che con questo libro davvero ci sia una piccola rivoluzione e un tentativo di avvicinare alla letteratura un genere che è sempre stato a parte e portare e portare in modo che la letteratura che pensiamo di una letteratura veramente involvera una classe una famiglia una gruppa e è molto pristino la risposta è sì quindi credo che sia sempre stato di mio grande interesse poter fare qualcosa di questo tipo perché devo ammettere che per molto tempo anch'io sono stato un po' uno snob letterario per così dire perché consideravo che i thriller i gialli appunto fossero della letteratura di basso profilo e tutta la loro storia tutta la loro trama insomma per me era qualcosa che non doveva essere considerato come alta letteratura e poi mi sono svegliato ho capito che era stupida questa ghettizzazione che veniva fatta secondo i generi perché devo dire la verità che molti dei miei romanzi preferiti in realtà avevano proprio una trama abbastanza complessa o implicavano anche omicidi non so se ne prendiamo anche il grande gas per esempio c'è anche in questo caso in questo libro un omicidio una persona viene scambiata per un'altra poi c'è un omicidio a caso di una vendetta quindi anche in questo caso possiamo trovare degli omicidi quindi in realtà per me scrivendo dei thriller dei crime quindi libri che trattano di omicidi quindi è un po' come abbattere le barriere quindi che vanno oltre la classe gruppo sociale cercare di andare oltre e trovare questa libertà una libertà che in un momento di crisi dà la possibilità di esplorare nuovi mondi e quindi poi possiamo anche dire invece ci sono altri esempi magari di letteratura più elevata se vogliamo dire così che però interessano solo una classe una famiglia un gruppo solo e questo è interessante un po' perché forse noi siamo molto abituati a leggere Gialli e Noir un po' sulla matrice francese dove ci sono che siamo a Simenon forse il più grande di tutti dove ci sono i personaggi che ritornano e che sono appunto seriali tipo certamente Maigret ma la stessa Agatha Christie che è inglese con Poirot e Miss Marple anche se lui che cita Assassino sull'Oriente Express mi fa pensare qualcosa sul possibile sviluppo narrativo del libro ma non voglio dire nulla però cita anche lo ha fatto sul Corriere della Sera un paio di settimane fa alcuni dei suoi romanzi preferiti e Gatsby certamente è uno di questi tra l'altro non a caso ambientato da quelle parti ma anche A sangue freddo Truman Capozzi che probabilmente è uno dei più grandi romanzi americani del secondo novecento oppure Jean Didon eccetera ecco questo passaggio continuo tra la cosetta letteratura mainstream e quella letteratura che invece fa della suspense del crime direi quasi della mancanza in termini di funzionamento di un meccanismo il suo asse portante indubbiamente in lui si fondono molto bene c'è da dire che non è il primo esempio di scrittori che arrivano al crime con un tomo di questa sostanza proprio ricordo che qui al circolo alcuni anni fa venne Joel Dicker che forse fu uno dei casi letterari più interessanti degli ultimi anni dove anche lui aveva lavorato non sull'investigatore non sul sul personaggio che si sostituisce in qualche modo al nostro io noi diventiamo gli investigatori del libro ma su questa coralità su questa moltitudine quasi sempre concentrata in una piccola comunità e forse questo è un meccanismo che a lui interessa comprende all of the possibilities that quickly but if you have a long book you're going to spend at least a week reading it and it gives you a lot of time to sort of come up with your own solutions which is a danger because you know I'm with you as a reader as the writer I'm with you and I want you to enjoy the book but I also am competing with you because I don't want you to figure it out so I'm trying to get in your way I'm when you're doing a murder mystery you're always trying to keep people in suspense and not give too much away at the same time so that's hard to do over a great distance it's tough and I think for me I fall in love with writing about characters so much so I can get a little caught up in them and their lives and probably goes back to those Warhol questions you can ask a serious question or you can just ask what someone had for breakfast that morning and get really into the minutia of it but yeah I would tend to agree that for the most part thrillers and murder mysteries are shorter affairs usually for that reason Üand of Ritengo che sia una vera propria sfida quello appunto di riuscire appunto tenere questa suspense per i lettori perché molto spesso il libro il giallo quindi il thriller in realtà è un libro piuttosto breve come si diceva perché non si deve dare tempo al lettore di poter pensare diverse possibilità di trama Questo lo possiamo vedere anche semplicemente nei film che durano magari due ore o poco più, insomma non c'è molta possibilità per le persone di poter pensare a diverse alternative e opzioni di trama, in realtà però per i libri è diverso perché se uno prende un libro e inizia a leggere almeno ci vorrà una settimana prima che l'abbia finito e quindi lì c'è il pericolo che magari il lettore si metta a pensare troppo quindi inizi a trovare alternative o diversità, diverse possibili strade. E quindi io sono contento naturalmente che i lettori leggono i miei libri ma mi trovo un po' in concorrenza con loro perché devo cercare di bloccare questo loro pensiero, questa loro capacità, queste loro possibilità di poter pensare ad altri tipi di trame perché naturalmente c'è la mia poi da seguire, proprio come fosse un vero gioco, quello di tenere sempre un po' i lettori nella suspense durante la lettura e questo non è proprio così facile, anzi è un esercizio piuttosto difficile. E poi voglio aggiungere che amo molto scrivere in merito ai personaggi, rimango spesso intrappolato nei personaggi, nelle loro vite e un po' sapete un po' come porre una domanda, porre una domanda molto semplice, una domanda molto difficile, si può rispondere molto rapidamente oppure rimanere lì per ore e ore. La stessa cosa con i personaggi. Sì, io devo dire che questa è proprio la cosa che più mi ha affascinato di questo libro è proprio il fatto di aver messo insieme una trama assolutamente gialla, adesso non dirò quanti omicidi ci sono ma ce n'è un buon numero, se no poi Luca mi uccide e mi dice no, ok fai lo spoiler. No, devono scoprirlo loro. Comunque ce ne sono tanti e ci sono due piste investigative, una è quella ufficiale della polizia e l'altra quella del nostro protagonista, per cui tutti i canoni del giallo ci sono. Allo stesso tempo c'è una profondità straordinaria sia sulla descrizione dell'ambiente, questa orient, alla fine la respiri ti sembra di avere questo oceano, questo mare nel naso e di conoscere questi personaggi assolutamente in profondità. E quindi io credo che questa sia la cifra davvero del libro, questo essere alta letteratura e allo stesso tempo thriller. È assolutamente la cifra più alta. Grazie a tutti. Or a Poirot, o Shaw Combs, o any sort of detective. But what I really wanted to do with this book is, I felt like the detective comes into a society that's in trouble, there's a murder that's happened, the detective is from the outside, he or she comes in and then solves the crime by figuring out the community and sort of removes the bad aspect of it and then the community's healed. But what I wanted to do is sort of make these amateur detectives. I wanted to make two people who are in the community who had so much to lose if they couldn't figure out what the hell was going on. You know, like if they couldn't figure out what was happening, which is Mills and Beth, they were going to suffer. And to me that was such a richer way of addressing the community rather than having just some cold detective come in who really has nothing at risk besides maybe their job or credibility. But it doesn't, it's not life or death in the same way. And so that's sort of, I think the, you know, why it was important to get the characterizations, right? Sì, il modo in cui le due piste investigative si intrecciano è veramente molto interessante, quindi leggetelo, perché è molto bello, è molto bello, come poi il lettore sa qualcosa di più rispetto al detective, ma non tutto, perché poi pian piano si scoprirà che anche l'altra pista investigativa ha le sue difficoltà. Ma l'intreccio, il modo in cui le due divergono e si avvicinano è una costruzione molto interessante, un intreccio davvero molto interessante nel libro. L'autore dice, grazie, grazie, quindi vorrei dire che quando inizio un libro e quando si inizia a scrivere un libro ci sono sempre due possibilità appunto per poter scrivere un libro, un thriller dove ci sono dei detective, per esempio. C'è il canone classico dove vediamo appunto, seguiamo la storia di un poliziotto, un agente di polizia, un detective che segue naturalmente la sua storia, proprio come abbiamo visto un esempio in Philip Marlowe, in Sherlock Holmes, in Poirot, ma io in realtà volevo vedere questa mia creazione da un altro punto di vista, in realtà da un punto di vista diverso, perché di solito con il detective è la presenza di un personaggio esterno che arriva in una comunità, cerca di risolvere il problema della comunità, quindi appunto questo omicidio e poi toglie, rimuove questo aspetto negativo della comunità e quindi il problema è risolto, la comunità si sente meglio. In realtà io volevo giocare diversamente perché o volevo che ci fossero due detective per così dire principianti che non sapevano niente appunto di come svolgere delle indagini, insomma ve lo dico, sono Mills e Beth e quindi se loro avessero poi scoperto qualcosa, beh avrebbero sofferto anche loro un po' di tutta questa situazione. Per me questo è un approccio diverso, un approccio diverso che si ha con una comunità e naturalmente un approccio diverso rispetto a quello che potrebbe avere un detective che viene dall'esterno di questa comunità. Allora ti faccio ancora un paio di domande, non prima di avervi detto che noi i libri li presentiamo volentieri, facciamo venire gli autori italiani, soprattutto stranieri, grazie ai fatti abbollati i boringhieri per questa occasione, ma poi i libri voi li dovete comprare e leggere perché sennò è tutto totalmente inutile, ok? Giù sì, così vai in classifica e facciamo vedere che non ci vanno soltanto i blogger in classifica, ok? Facciamo questo accordo, bravi, allora le domande, le due domande che vorrei fare sono queste. La prima anche con un senso di profonda invidia, devo dire, perché lui ha una lunga e interessante carriera, prima giornalistica poi da direttore di giornali, quindi voi sapete che chi fa questo mestiere tende in realtà ad amalgamare molto il lavoro degli altri. E poi a un certo punto, dopo V Magazine, dopo Interview, diventa uno scrittore vero, questo è il suo terzo romanzo peraltro, il secondo, ecco. E mi veniva in mente, ma questa cosa in realtà l'avevo anche letta in una delle tante recensioni o interviste che sono uscite in questi giorni sui giornali, che esiste un po' una specie di tendenza, tra virgolette, di ex giornalisti o direttori di giornali che fanno adesso gli scrittori. Uno dei libri forse più interessanti, anche se obiettivamente un po' noiosetto, che avevo letto l'anno scorso, Una vita come tante, della Yana Yagara, mi fa Yana Yagara, non so pronunciare questo un po' noioso, bello, lei dice, io dico un po' noioso, lei è direttrice del T Magazine, cioè il magazine della moda del New York Times. Ecco, allora, questa esperienza giornalistica, in realtà, ti ha aiutato a fare lo scrittore oppure non ne potevi talmente più di fare il giornalista che hai detto, guarda, ora mi metto a scrivere, davvero. I always wanted to be a writer and I guess when you say you as a child you want to be a writer, it means you want to be part of the amazing world of reading that you're in love with. And it's just easy to say I want to be a writer when I grow up, just like I love space, I want to be an astronaut. But that can take so many different forms and that means you can be an editor, you can be, you know, a publisher, you can be a writer, you can be a translator, you can just be a great reader and fan. You know, it takes all sort of different forms as an adult. For me, it did, it did really help all the years I spent. I didn't go to graduate school for writing, I just was an undergrad and English major. So in a way, all those interviews I did for Interview Magazine were, it was a bit of my grad school. I got to interview such amazing people like Joan Didion and Norman Mailer and Toni Morrison and people in other careers too, like, you know, like Patti Smith or Robert Altman or just all these insanely gifted, intelligent artists who had so much to tell you as a young person. And so I think it really helped me, you know, and I didn't have a mentor, I didn't go to the school and have a teacher. So I think in this job I found a lot of encouragement and new voices and ideas that I could eventually, when the time came, put into the book. I think it always helps to know a lot about other fields and riches, the characters. Sì, devo dire che ho sempre voluto essere uno scrittore. Penso che quando si dica da bambino che si vuole diventare scrittori, poi da grandi, voglio dire in realtà voler far parte di un mondo di lettori, per così dire. Forse è anche più facile dire che si vuole diventare scrittori rispetto a dire che si vuole, non so, conquistare lo spazio diventando un astronauta, per esempio. Però quando intendo che si vuole far parte di un mondo molto spazio di lettori o di persone che si occupano della lettura, intendo che possono esserci molteplici forme che può prendere questo sogno. Non so, si può diventare scrittori, giornalisti oppure editori, traduttori, tutte persone che hanno a che fare appunto con questo settore. Per me in realtà è stato molto molto utile, in realtà poter avere l'occasione di essere giornalista, mi ha aiutato particolarmente perché io non ho studiato poi in una scuola per scrittura. In realtà io appunto ho fatto un'università ma poi non mi sono, poi dopo specializzato in scrittura, in scuole particolari di scrittura. Ho visto in realtà diversi modelli letterari che potevano essere molto interessanti, come Tommy Morse, Spaddy Smith, così. Però sono state persone che mi hanno dato l'ispirazione, questa loro intelligenza, questa loro capacità, persone così dotate che mi hanno aiutato particolarmente, senza avere appunto frequentato una scuola di scrittura proprio nel vero e proprio senso della parola. E quindi, ripeto, sì, è stato molto utile avere l'occasione di poter lavorare come giornalista perché si sentono diverse idee, diverse opinioni, diverse voci. È sempre molto utile poter apprendere da diversi ambiti. E poi l'ultima domanda, 700 pagine, secondo me grazie 700 pagine, fanno anche pensare che questo libro potrebbe essere in qualche misura molto interessante per quelle che io ritengo essere forse attualmente le nuove forme di narrazione, cioè le serie televisive, soprattutto quelle che noi vediamo sui canali tipo Netflix o Amazon, per esempio American Gods l'anno scorso tratto da Neil Gaiman, quindi uno scrittore importante. Allora, Christopher, tu pensi che Orient possa diventare un buon supporto per una serie televisiva? Non so se c'è in sala qualche producer, però non si può mai dire. Eventualmente se pensi che a questo punto dalla serie televisiva poi si deve fare Orient 2 e vedere un po' che diavolo succede. Ah, um, yes. I mean, I did not write the book to make it into a movie or TV series. I mean, it would be much easier to just write the script and not have to deal with the 700 pages. However, I think, you know, whatever keeps the life of a book going, I think, is always really good for a book. So I would be happy, and it has been optioned, so for a miniseries, who knows if it will ever turn out. But I think it would be great, you know, and it would be fun to see someone else's translation of it into film. And, you know, it's just, it would be exciting to see. But I don't have, like, a secret list of cast, of people I'd like, stars I'd like to cast as the characters. But I can see it being, it's really, I think I write really cinematically, and I think it's just because of my generation watched way too many movies and cable television when we were young, so I think I write very visually, so I could see how it would lend itself. Sì, diciamo che quando scrivo un libro non lo faccio perché possa diventare poi un giorno forse una serie tv oppure un film. A questo punto sarebbe più facile, a posto di scrivere 700 pagine, forse scrive direttamente un copione appunto per una serie tv o per un film. Comunque, perché no, potrebbe essere anche una buona idea perché qualsiasi cosa che tenga vivo poi il libro potrebbe essere un'opzione aperta e potrebbe essere una valida opzione e penso che sia davvero anche un'ottima idea quello che ho appena proposto. E sarebbe anche interessante da parte mia poter vedere appunto come viene poi trasportata questa storia in un film. Perché no? Devo dire la verità che non ho in realtà una lista segreta di possibili attori, possibili cast, insomma, per i vari personaggi del mio libro. Posso però dire che la mia scrittura è molto cinematografica, per così dire, è molto visiva. E forse questo è dovuto alla mia generazione che ha visto così tanti film, così tante serie in tv. Grazie.